Buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale di Lorenzo Ciacca, andiamo a esplorare la home di Netflix, di nuovo direte, sì di nuovo perché Netflix ci ha regalato qualche novità e ne parliamo un attimo, un secondino, molto veloce questo video. Così se troviamo qualche film che vi siete persi o se non sapete cosa guardare vi consiglio un po' di titoli, ma in realtà a questo giro non vi consiglio proprio niente perché devo vederli anche io perché mi sono assentato due giorni e Netflix esplosa, esplosa. A parte che mi ha ricordato che da dicembre il prezzo sale a 17 euro e spiccioli, proprio così mi ha messo le mani in avanti e poi mi ha fatto vedere cosa in realtà mi vuole regalare, regalare, vendere, far vedere, ecco, le novità, ecco. Ebbene, che dire, è uscito Red Noctis con Downey Johnson, la grandissima Gal Gadot, Ryan Reynolds, film del nostro simpaticissimo amico Rosen, quello di Skyscraper, quello di nuovo con The Rock, perché è un feticcio per quest'uomo The Rock, fa bene perché è un bravissimo attore The Rock. E qui, oltre al suo feticcio, ci mette Ryan Reynolds, che fa sempre piacere vedere, e Gal Gadot, che dire, ce la sogniamo di notte, quindi più la vediamo è meglio, è. E cosa dire, devo vederlo, devo vederlo, qua c'è un trafiletto, il profiler dell'FBI sulle tracce del più ricercato ladro d'arte del mondo, ne diviene il riluttante complice per catturare una sfuggente truffatrice in fuga perenne, non lo so, non lo so. Io, dei film di Rosen, ho sempre paura perché sono sempre un po' più in alto di quello che dovrebbero essere, un po' come il gas a cielo di Skyscraper, un po' troppo in alto, anche meno, va bene. Lo sappiamo che hai i soldi, però puoi anche evitare, no, di fare queste cose qua super mega, stiamo un po' più bassi, magari, no? Siccome questo è il suo terzo film, se non mi sbaglio, quindi vogliamo un po' più bassi, va bene che hai i soldi e quindi puoi fare quello che vuoi, però poi bisogna avere anche le idee, giusto? I film, il cinema è fatto di idee prima che essere fatto di soldi, ci sono film a bassissimo costo, molto molto belli, ci sono film con budget enormi che fanno K. Quindi, stiamo calmi, speriamo bene in questo Red Notice e ne sapremo di più quando lo guarderemo. Poi, andiamo avanti, cos'è uscito? Poi è uscito Jumanji The Next Level, Netflix praticamente è esplosa, ci ho ricordato che il prezzo è aumentato, però effettivamente è esplosa, perché è uscito Jumanji The Next Level. Io è la prima volta che lo andrò a vedere, perché non l'ho ancora visto, quando ero uscito dal cinema non l'avevo visto. Non mi ricordo neanche di cosa si era detto di questo film, se era bello, se era brutto, se valeva la pena vederlo o meno, però, allora, Jumanji e Jumanji. È un format che a me è sempre piaciuto, già dai tempi antichi, quindi, che dire, lo guarderò, lo guarderò per forza. Poi c'è Downey Johnson e, di nuovo, il secondo film con lui per oggi è... lui mi piace. Cioè, se c'è lui, io guardo il film, semplicemente. Skyscraper l'ho guardato solo perché c'era The Rock, devo essere sincero. Poi, chi ci troviamo? Troviamo Jack Black e non lo guardiamo fin con Jack Black? Dai, su. In più c'è Karen Gillian, che, senza essere maschilisti, però è un gran patatone, fa sempre piacere guardarsela. Guardarsela, Karen Gillian, ok? La nostra nebula. Quindi, me lo guarderò molto, molto volentieri, anzi, forse di tutti quelli di cui vi parlerò oggi, è il primo che andrò a vedere anche perché è quello che riuscirà a farmi anche un po' ridere. Ed è bello ridere. Non so se lo sapete, ma è bello ridere. Andiamo avanti. E quindi, niente, non mi ricordo neanche chi è il regista. Andiamo a vedere chi è il regista. Kasdan, Jake Kasdan. Non mi viene in mente niente adesso di Kasdan, quindi non ne parlo. Poi è uscita la, appena me lo carica, è uscita Narcos Messico. È uscita la terza stagione. Che dire? Se si fermavano prima era meglio, però già che le fanno le guardiamo. Io spero si diano un taglio prima che sia troppo tardi. La guarderò. La guarderò perché a me Narcos gasa. Fin dall'inizio, già dalla prima, poi la seconda, poi la terza, figuriamoci. Vedremo questa. Vedremo questa. Io spero vivamente non abbiano fatto una K. e che dire, sono un po' perplesso. Questa nuova e cronenta saga Targa da Narcos racconta la genesi dell'narcoguerra messicana negli anni Ottanta con la storia vera della scena del cartello di Guadalajara. Cioè, già così, eh? Fa hype. Fa hype. E anche il ragazzo qui col baffetto, sinceramente, attira. Attira. Lo guarderemo, lo guarderemo. Andando avanti, e ultimo, eh? Proprio pochi minuti, pochi minuti proprio spesi per Narcos. Per cui c'è questo film qua, che è The Harder Day Fall. Il mio inglese fa sempre più schifo. Vabbè, comunque, questo film qua ve l'ho messo semplicemente perché c'è Idris Elba e io lo amo. Lo amo alla follia, questo attore qua. Quindi, di nuovo, un film di cui non so praticamente niente. Non so neanche il regista, non so niente. Non sapevo neanche esistesse questo film. Però, c'è Idris Elba. Quindi io lo guarderò tendenzialmente perché c'è Idris Elba e poi è un film di cowboy. Quindi. E poi vedo che ci sono tutti i neri. Cowboy neri. Non vi ricorda qualcosa? A me ricorda qualcosa. Speriamolo sia... Lo ricordi anche nelle scene. Eh? Speriamo sia bello. Samuel. James... James... James Samuel. Hm. Wesner. Film crime. Drammi. Caratteristiche. Provocatorio. Spiritoso. Vabbè, magari ci facciamo delle risate anche con Idris Elba. Va bene. 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 Ed io niente, basta. Ho finito, eh? Ho finito. Vado a guardarmeli. Ma c'è lei? Ma no, ragazzi. Ma lei è di nuovo una speranza per gli occhi? Bene. Bene. Vado a piangere. Da tutti i pori. Ciao. Ci vediamo alla prossima con Prime. Perché è tanto che non esce un video su Prime, ma sto guardando i film. E vi parlerò di film Kazaki. Sapete che ci sono dei film Kazaki su Prime? E anche di un film turco. In un film turco? Vabbè, ma non vi anticipo. Poi vi anticipo troppo. Andiamo. Andiamo così. Va bene così. Ciao ragazzi. Alla prossima.